Ed eccoci ben trovati e ben trovato anche il nostro gradito ospite Roberto Castaldo, imprenditore, formen, consulente, aziendale, coach professionista. Volevamo ragionare insieme quest'oggi, Roberto, se ce lo consenti, sui limiti che la libertà di ogni singola persona ha subito in questo lungo anno, che non accenna a terminare, ed anche i limiti della collettività e il modo di accettare questi limiti. In realtà io non voglio andare in nessun posto, ma appena mi dici che non ci posso andare, chissà perché mi viene voglia. Cosa succede in ognuno di noi? La privazione, la privazione che stimola questa nostra proattività nel voler fare qualcosa. Il nostro cervello funziona per immagini. Sappiamo che il cervello il nonno non lo registra, nel momento in cui ti dico non uscire, la prima cosa che immagina il mio cervello è di uscire di casa. Quindi è come se noi stessimo installando dei comandi nascosti nella mente dei nostri interlocutori, tanto da portarli a fare delle cose. Che cosa è successo nel primo lockdown? La paura del peggioramento, la paura della morte, il grande problema. Siamo stati molto bravi, tutti chiusi in casa, con la speranza che ci potesse essere nel brevissimo periodo qualcosa di differente. Qualcosa di differente c'è stato, siamo andati in vacanza, bonus bicicletta, bonus monoparty, bonus vacanza, le aziende si sono organizzate per poter dare servizio e poi a ottobre abbiamo ricominciato di nuovo. Con la differenza che però, mentre il primo lockdown era generalizzato, nel secondo lockdown di fatto si è fermato tutto il sistema e il comparto economico senza aver avuto la prospettiva. Allora a quel punto un po' di disattenzione, un po' di mancanza totale di controlli. Qualche giorno fa su Lungomare di Navoli c'erano un bel po' di persone. Persone per strada che continuano a girare senza mascherina e nessuno che effettua un controllo di routine. Questo è il grande problema. In relazione ai controlli però io lancio una provocazione. Pensavamo di essere adulti. L'essere adulto non significa che tu sia responsabile. L'essere adulto non significa che tu sia responsabile. Per esempio, in Inghilterra, nel periodo di chiusura, loro non hanno limitato i viaggi internazionali. Hanno detto, vuoi viaggiare? Mi paghi 5.000 sterling. Quella non è una privazione della libertà. È un vincolo che tu metti per cercare di limitare la curva dei contagi. Poco tempo fa, nel periodo pasquale, le persone sono partite dall'Italia per andare all'estero a farsi un po' di vacanza e noi, Italia per Italia, non ci siamo potuti muovere da regione a regione. Naturalmente questo crea una sperequazione, un disallineamento enorme, un disagio che non fa altro che mettere le persone in una condizione di cercare degli svaghi. Il nostro cervello, quando va nell'unità di crisi, ha bisogno di svagarsi. È chiaro che privando la relazione umana, privando la libertà personale di muoversi, entriamo in difficoltà. Sai, spedito, noi nasciamo con due sole paure. La paura dei rumori forti e la paura di cadere. Tutte le altre paure sono indotte dalla società. La paura più diffusa è il parlare in pubblico, ma anche la paura di rimanere fermi in un posto senza potersi muovere. E questo è quello che sta succedendo. Io ritorno alla provocazione che evidentemente non è stata abbastanza provocatoria. Quando io dico pensavamo, pensavo di essere adulto, pensavo che nel momento in cui io avessi accettato delle regole di normale convivenza e avessi accettato di rispettare la legge, bastasse. Invece, in questo periodo, abbiamo avuto sempre qualcuno col ditino alzato che ci ha detto cosa dovevamo fare, salvo poi accorgerci insieme, noi e quello col ditino alzato, che ci ha fatto fare delle cose sbagliate. Abbiamo sempre qualcuno che contraddice se stesso con un altro ditino alzato. E non si ricorda che ieri aveva detto giusto appunto il contrario di quello che va affermando oggi? Tant'è che poi io penso, meglio essere adulti e autonomi che essere adulti nelle mani di altri adulti che ci stanno portando per strade sbagliate. Adulti e autonomi in un sistema di regole condiviso e riconoscibile, che sia facilmente condizionabile individualmente. Ovvero, c'è il vecchio detto che la libertà mia individuale finisce quando inizia la tua. Cioè, se a me fa piacere accarezzarti, a te dà fastidio che io ti accarezzo, a un certo punto ci dovrà essere qualcuno che mi dice vabbè, non mi devi accarezzare, non mi toccare che mi dà fastidio. Noi abbiamo in Italia portato avanti una serie di consuetudini nel tempo e siamo cresciuti con queste consuetudini. Nel momento in cui c'è un evento pandemico del genere che rimette naturalmente tutte le regole del gioco in una condizione di essere riviste, quelle consuetudini, se non c'è un livello culturale elevato e c'è un impianto valoriale condiviso tra le persone, non si riescono a gestire. C'è bisogno di una parte che si chiama fase istruente, una fase educativa, nella quale quella persona che stava col dittino alzato, che ci ha detto cosa fare, cosa non fare, come fare, come non fare, ci doveva essere un periodo di latenza nel quale la parte repressiva condizionava il nostro comportamento e ci faceva entrare in una fase istruente e capivamo quali erano le cose che si poteva fare e quelle che non si poteva fare. La mancanza di comunicazione chiara e formale mette tutti nella condizione di poter scegliere in funzione delle proprie consuetudini, dei propri vantaggi, cosa fare, come farlo e quando farlo. Io ci riprovo ancora a provocare. Allora, dobbiamo quindi negare che l'umanità abbia avuto in talune circostanze un diritto alla disobbedienza che in altre circostanze è diventato dovere della disobbedienza. A questo punto dobbiamo accettare tutto passivamente, anche le cose che ci appaiono inutili. Voglio dire, malattia respiratoria resti al chiuso, perché all'aria aperta è pericoloso. Non è forse il contrario? Sì, diciamo che davanti a un sistema di regole, io in maniera autonoma e responsabile scelgo di bypassare le regole. Nel momento in cui bypasso la regola ci deve essere un sistema di incentivo e disincentivo, un sistema anche sanzionatorio, perché in assenza di un sistema sanzionatorio inevitabilmente questa eccezione, una tantum, diventa la normalità. Siamo il paese delle eccezioni. Se pensi solo all'impianto normativo relativo alla fiscalità, se sei un'azienda con più di anni, se sei un'azienda con un codice Ateco, se sei un'azienda con... Quante eccezioni abbiamo? La prima regola del business e della comunicazione è di semplificare. Noi non abbiamo semplificato e in assenza di semplificazione non puoi esercitare il controllo. Per cui su tre cose che avevamo stabilito, quella di rimanere un attimo a casa fermi per cercare di far abbassare la curva di contagi, cosa che è notizia che dicevamo da un po', probabilmente i dati non sono propriamente veri, i dati sui quali prendono decisioni non sono propriamente rappresentativi della realtà. Primo problema, la sincronicità dei dati. Se io oggi vado a fare il tampone e chi prende il mio certificato, fa il data entry e risulta in piattaforma tra tre giorni, prima che mi arrivi la comunicazione che io magari sono positivo e sono andato in giro, in quei tre giorni potrei aver incontrato 50 persone. È chiaro che in questa carenza organizzativa, l'unica strada è quella di ridurre la circolazione e ridurre gli spazi in cui ci possono essere assembramenti. Ridurre non significa, come dicevi tu, reprimere. Siamo parlando di due cose diverse. Dal mio punto di vista oggi, chiudere gli esercizi commerciali, o alcuni esercizi commerciali, è una cosa totalmente sbagliata. Crea una sperequazione. Cosa diversa invece è dire a questi esercizi commerciali che devono utilizzare un contingentamento degli ingressi per evitare che le persone si possano assembrare. Prendi il caffè fuori al bar, al tavolino, e ci stanno 50 persone fuori e un solo addetto dentro che ti fa un caffè alla volta. È fatto comunque un assembramento. Cosa diversa invece se avessi creato un sistema di ingressi, contingentazione, la mascherina, la misurazione della temperatura, probabilmente avremmo potuto continuare in questa nuova normalità a fare le cose che spingono l'economia. Primo problema, vi ho detto, la scuola. Il secondo problema, gli esercizi commerciali senza attività produttiva. Questo è un paese che si mantiene con la piccola e media impresa, impresa stampo familiare. L'80% delle partite IVA sono piccole imprese, micro imprese sotto i 5 addetti. Significa che nel momento in cui chiudi quell'esercizio commerciale c'è una famiglia o più famiglie che in questo momento non possono mettere il piatto a tavola. E quindi le misure, alcune misure, sono pannicelli caldi, in altri casi cerchiamo di svuotare il mare con un bicchiere, è impossibile. Il tempo per pensarci, il tempo per valutare, per sperimentare, per avere la prova del 9, c'è stato. Eppure noi continuiamo a sbagliare in certi ambiti. Sbaglia chi continua a negare e non vuole portare la mascherina, perché non lo sappiamo. Magari un giorno scopriremo che le mascherine ci hanno salvato, le mascherine hanno salvato l'umanità. E sbaglia chi invece dice, chiusi dentro, non dobbiamo, forse la verità sta nel mezzo, io non lo so. Non so nemmeno se sbaglia il rigorista o se sbaglia il negazionista, io non lo so questo. Io faccio domande e cerco risposte. Però mi rendo conto che di fronte alla inutilità di certe misure, oppure alla loro insufficienza, ancorché fare marcia indietro, o rivedere le cose, o pensare a altre cose, c'è una sorta di deriva, va bene così. Perché poi le tappe, hai citato la Pasqua, ci dicono che è trascorso un anno, poi ce lo dirà l'estate, poi ce lo dirà di nuovo l'autunno, è possibile che non una mente pensante non riesce? Ne basterebbe una. Abbiamo gli ultimi due minuti. Se pensi alla grande incongruenza, abbiamo delegato la comunità europea a fare acquisti su economia di scala per i vaccini, e abbiamo delegato gli antilocali, le regioni, a fare l'erogazione. Questo ti fa capire l'incongruenza che noi abbiamo. Tu come me hai dei figli, se tu a tuo figlio gli dai il coprifuoco, gli dici entro le 10 devi tornare a casa, perché gli dici? Avrei preso una decisione. In quello che è il tuo ruolo, per quella che è la tua gerarchia sul tuo figlio, stabilisci una regola. Poi, a seconda di una serie di regole che io condivido, te lo spiego, ti affianco, ti accompagno, ti faccio capire il perché, ma intanto tu hai preso una decisione. Noi abbiamo bypassato completamente le linee gerarchiche, un po' per inadeguatezza, un po' perché è anche vero, bisogna ammetterlo, questo è un evento straordinario che nessuno aveva mai affrontato in presenza, quindi non c'era neanche una serie storica. è vero anche che però, come dicevi tu, è passato ormai un anno e le decisioni vanno prese probabilmente con un tono differente. Con un tono differente, non dico da persone differenti, non è importanza chi prende le decisioni, ma finalmente decisioni che in qualche modo siano prese da adulti, che parlano ad adulti. Assolutamente sì, da adulti che parlano ad adulti, nell'interesse collettivo del Paese. Speriamo presto di cambiare argomento con te, grazie mille Roberto Castaldo, buon lavoro a te, al tuo staff, a Formen, grazie anche a voi a casa, ci rivediamo presto. Grazie, spedito.